I lavori di demolizione dello stabile dell'ex 5 maggio in Viale Damiano Chiesa a Riva sono stati posticipati rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali. L'intoppo è dovuto al fatto che gli operai dell'impresa Misonel, incaricata allo svolgimento dei lavori, hanno rinvenuto nella struttura vari elementi in amianto, provenienti da precedenti interventi edili. La rimozione dell'amianto dovrà essere effettuata tramite ditte specializzate, per garantire la sicurezza degli operatori e l'incolumità pubblica. Nel momento in cui le ruspe entreranno in azione non ci metteranno molto a completare il lavoro, commenta speranzoso il sindaco Adalberto Mosaner. Confidiamo che l'abbattimento dello stabile possa concludersi anche prima del limite di tempo stabilito della gara di appalto, ovvero il 21 luglio. Una volta raso al suolo, il complesso verrà indetta la gara di appalto della provincia per l'ampliamento del liceo Maffei, da effettuarsi entro il 2022. Nell'attesa, sulla spianata saranno realizzati temporaneamente dei parcheggi ad uso pubblico. Grazie. Grazie. Grazie.